Ciao ragazzi buon pomeriggio bentornati in questo nuovo video del Gobbo Toscano oggi abbiamo da parlare ancora di un paio di cosette quindi questo è il terzo ma non sarà l'ultimo video della giornata perché ci sono tante cosine molto molto succose da portare da sviscerare qui in video con voi visto che probabilmente non riusciremo a fare la live stasera ma in caso potremmo provare a farla in modalità verticale nel pomeriggio io vi chiedo sempre comunque massimo sostegno al canale quindi iscrizione, like, condivisioni, commenti, attivazione della campanella mi raccomando che è sempre importantissimo ci mancano 10 iscritti per arrivare a 14.200 siamo fermi lì ormai da una settimana in una settimana abbiamo vacillato ma questi sono sproni e motivazioni in più ovviamente grazie abbiamo vacillato anche grazie a quei 2-3 topi di fogna che hanno segnalato il canale ma ribadisco il concetto quando hai una community forte alle spalle, un team di lavoro forte accanto e un carattere solido e una famiglia solida vai avanti nonostante qualsiasi difficoltà ti si possa mettere davanti detto questo, iscrivetevi anche al secondo canale youtube qui in descrizione Calcio News 24 ragazzi miei Calcio News 24 è il secondo canale del Gobbo Toscano in collaborazione con Audino, Dani e chiunque di voi voglia partecipare con contenuti perché apriremo anche le iscrizioni su Calcio News 24 a nuovi creator che hanno voglia di collaborare con noi e vogliono pubblicare il proprio video sul canale allora, e qui intendo tifosi di ogni squadra perché il canale parla di Serie A non della Juventus vi voglio portare all'attenzione di una cosa di una cosa che secondo me è importante parliamo di Paul Pogba un articolo sulla Gazzetta di ieri di ieri sera, tardi, di stanotte quasi riportato dalla Gazzetta all'attenzione di tutti noi Pogba Juve, la clamorosa ipotesi ipotesi per il futuro non va scartato anche questo scenario cosa può succedere? attenzione, attenzione e poi abbiamo anche un altro indizio sul futuro di Pogba che leggeremo fra poco una clamorosa ipotesi per il futuro non si può scartare i dettagli, dopo essere stato in gran segreto al tasse di Lausanna Pogba tende ora all'esito del ricorso contro la lunga squalifica per doping aspetta anche la Juve per capire il da farsi con una nuova clamorosa ipotesi qualora venisse confermato lo stop si andrebbe sicuramente verso la rescissione del contratto perché ricordiamoci ad oggi l'intenzione totale della Juventus è di rescindere perché gli ha fatto comodissimo l'esclusione di Pogba per non dover pagare poi lo stipendio enorme del giocatore ma ancora ecco lo stipendio minimo un giocatore sotto contratto della Juventus ma in caso contrario si potrebbe pensare anche ad un clamoroso reintegro in rosa attenzione ipotesi al momento improbabile ma che secondo Gazzetta non può essere scartata e perché non può essere scartata perché sicuramente Pogba fa comodo a chiunque un giocatore talentuoso che ti gioca anche da fermo ovvio con quell'ingaggio non fa comodo più a nessuno ma se si dovesse trovare un accordo in base a quello che può volere il giocatore e se dovesse trovare un punto di incontro alla società allora si potrebbe parlare di un clamoroso ritorno ma questo io lo scarterei a priori non solo per il discorso Juventus ma anche e soprattutto per un discorso che Pogba secondo me si è sentito abbandonato dalla Juventus perché la Juventus l'ha lasciato fondamentalmente solo nella sua battaglia non ha fatto come l'Atalanta che stette al fianco dello squalificato in difesa il difensore non mi ricordo il nome ma lo troverete sicuramente e Pogba si è sentito solo, si è sentito quasi non tradito perché fondamentalmente l'errore, se è stato un errore suo volontario o involontario l'ha commesso lui a meno che non ci siano probabili, clamorosi come si può dire, colpi di scena che possono poi portare a dire che è stato fatto qualcosa da qualcuno di proposito che sia della Juve, che sia fuori dalla Juve non si sa ma non voglio entrare in merito a questo voglio solo parlare di questa situazione con Pogba poi c'è un altro indizio sul futuro di Pogba che riguarda Nico González cosa è successo? sempre secondo la Gazzetta, rientro della Nazionale Nico González dovrà decidere in quale abitazione andare a vivere con la compagna a Torino l'argentino si è informato sulla villa in collina dove abita Paul Pogba un tempo a residenza di Ronaldo che potrebbe liberarsi nei prossimi mesi in caso di risoluzione contrattuale del francese attualmente squalificato per doping per il divorzio con la Juve si attende però la sentenza del TAS di Lausanna quindi continuano a parlare di questo ricorso al TAS perché anche se sono cose secondarie questo ricorso se dovesse andare nell'acqua quindi finire male e continuare a dare la squalifica a Pogba Pogba verrebbe rescisso dalla Juventus e la villa potrebbe andare a Nico González quindi anche un discorso di collocazione perché ad oggi è ovvio che Pogba credo che l'affitto se lo paghi lui però sono tutte cose in più che ruotano intorno alla vicenda Pogba è ovvio che oggi ci si va a speculare sopra e quindi si va a parlare della villa ma la cosa più importante è la possibilità di un reintegro ripeto, non credo perché anche se Tiago Motta volesse puntare sul reintegro e Pogba fosse convinto di rimanere alla Juve e probabilmente accettare un rinnovo completamente diverso a ribasso totale e condito solo da bonus in base alle prestazioni non credo che Pogba e la Juventus abbiano un proseguo roseo e questo vi dico la verità mi dispiace perché io a differenza di tanti credo nella buona fede di Pogba e probabilmente credo all'ingenuità di Pogba ma non all'ingenuità che lui ha preso un farm o senza sapere credo più che sia stato indirizzato male veramente da qualcuno e che ci sia qualcosa fatto di proposito ripeto, non dico dalla Juventus non dico da un soggetto esterno ma probabilmente qualcosa che non quadra totalmente ovviamente questo è un mio modo di interpretare la situazione sappiamo bene quanto pesava il contratto di Pogba sappiamo bene gli è stato chiesto il rinnovo la pimenta dice sì sì va bene poi però va avanti la trattativa non decolla e Pogba continua a percepire i suoi 10 milioni totali comprensivi di bonus alla Juventus la settimana dopo cosa succede? un giocatore che non entra in campo neanche con l'Udinese e quindi non può dare ripercussione alla Juventus stessa Pogba viene esaminato per il doping cioè che senso ha esaminare per il doping un giocatore che non ha partecipato alla partita quindi puoi creare un danno non alla società in quel caso ma al giocatore singolo quindi se c'erano sospetti di doping da parte della FGC o della Marotta League potevano andare a come si dice a prelevare il campione di urine da Pogba quando entrava in campo in una partita in cui gioca il doping lo trovi lo stesso e punisci anche sanzioni anche la squadra perché? perché è falsa un risultato quindi ci sono le sanzioni a livello di punti e quant'altro se vai a beccare il Pogba che non prende parte alla partita l'unico ci rimette lui e la Juventus giustamente non ci rimette niente quindi è per questo sai io so un po' come si dice chiamatelo complottista chiamatelo probabilmente non mi fermo se trovo un dito e cerco sempre di guardare dietro al dito non lo so non voglio essere cattivo né nei confronti della Juventus né nei confronti della della FIGC in caso contrario e nemmeno del tribunale antidoping vediamo soltanto cosa succede sono sicuro che in un modo o nell'altro che si risolverà la situazione ci saranno gatte da appelare con Pogba perché dal momento in cui sarà tutto definitivo lui potrà parlare e vuotare il sacco credo non sia una cosa buona per diversi elementi che fanno parte di tutta questa situazione detto questo detto questo mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate di Pogba so che la maggior parte di voi lo reputano giustamente è un giocatore finito dal punto di vista fisico mentale e tutto ma voglio comunque sapere la vostra opinione se vi piacerebbe rivedere Pogba alla Juventus o meno e se la Juventus e cioè scusate se Pogba secondo voi riuscirà ad ottenere uno sconto o l'annullamento della condanna per disqualifica per doping mi raccomando fatelo sapere con i commenti like iscrizione condivisione attivazione della campanella che non devono mai mancare fino alla fine forza Juve fino alla fine Gobo Toscano ci vediamo più tardi perché il Gobo Toscano siete tutti voi e il Gobo Toscano è sempre con voi ciao ragazzi ancora una buonissima domenica a tutti grazie